Qual è il vantaggio per un'impresa, quella di trovare altre imprese che magari non operano direttamente nello stesso campo per fare una rete? C'è un vantaggio assolutamente esplicito, è un consiglio che do sempre a tutti coloro che hanno in essere l'idea di voler approcciare ad una rete. Il primo, in assoluto, fate una rete d'attacco, non fate una rete di difesa. Se dovete mettervi insieme a qualcun altro che sia almeno bravo quanto voi o forse anche meglio di voi, provate a fare una rete d'attacco perché le reti di difesa sono perdenti. Rete d'impresa vuol dire aggregarsi, non vuol dire sommarsi al di là del concetto filosofico? Concretamente cosa vuol dire questa differenza? Vuol dire portare avanti dei progetti in comune che possono essere quelle di presentarsi sul mercato insieme su attività complementari o come si suol dire fare massa critica, cioè aggregare attività per raggiungere una dimensione che è necessaria per raggiungere maggiore efficienza o maggiore competitività sui mercati. È un modo leggero ma efficace per superare i limiti che la struttura produttiva italiana ha, che spesso non è sufficientemente dimensionata. Le imprese italiane sono per lo più piccole e medie imprese. Questo è un orizzonte necessario per competere? Assolutamente sì, non ci sono ad oggi altre possibilità. Il contratto di rete rende flessibile questo tipo di applicazione. I costi sono contenuti. Forse oggi come oggi è la migliore modalità per creare un modello vincente sul mercato.